Buonasera a tutti, grazie per essere stata invitata per essere qui in un gruppo. Io vengo dall'estattore dell'ultimo paesino della provincia di Lazzina, dove sono di Gariano. Sono un assessore, mi occupo di istruzioni, turismo e cultura. E sono divisa tra due mondi, di quello sociale per le attività, che ovviamente sono sociale, legate al territorio, e la cultura e la realtà, in genere, quando sono tuttrice, napoli, musica, canto e scrivo pesine. Quindi sono del luogo reale per dar voce alle emozioni, le emozioni di don, le emozioni di non essere umani. Io poi alla fine non ho una certa distinzione, però dopo don, abbiamo nel corso sociale. Siamo tutti portatori in anima per vedere cosa che vuole essere ascoltato e scriversi. Grazie a tutti.